Io vorrei chiudere con il primo carnevale rinascimentale d'inverno. Sì, è stata un'idea che è nata diciamo da un colloquio tra Ilaria Franciosi, Aldo Rizzoni che era molto legato al mondo del palio, Ilaria Franciosi che è stata mia collaboratrice per tanti anni e che ha organizzato poi una serie di iniziative e le varie edizioni del carnevale di cui io sono stato il coordinatore, ma tutto è partito nel 2012 cercando di unire i momenti legati alla cultura, allo spettacolo e al teatro di Plauto. Da lì poi nel 2012 avevamo solo un paio di iniziative, due o tre iniziative, nel 2013 già sono diventate molte di più fino ad arrivare alle 40 iniziative spalmate su 3-4 giorni nel corso della settimana, in mesi che ovviamente non sono molto ambiti dal punto di vista del turismo eccetera, però siamo riusciti ugualmente a creare interesse verso questa iniziativa e quindi sono state centinaia di persone che hanno assistito ai convegni, alle conferenze.